e ciao a tutti oggi siamo ritornati con let's fish oggi dobbiamo cercare di almeno arrivare alla top ten di questo torneo se ci arriviamo a 10 giocatori dobbiamo prendere un luce dalla soluzione si comincia a pescare e ciao via la musica se c'è sai c'ho la camera da 30 qui pesco con quella da giù un po' grazie a tutti 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 grazie a tutti